Di sera abbiamo organizzato a Villa Faravelli la presentazione del libro di ricette del vincitore di Masterchef 2014 Federico Ferrero che ha parentato e una parte della sua vita vissuta nell'imperiese. All'interno di questa manifestazione, quindi ci sarà la presentazione del libro e la conduttiva di Antonella Viale ci sarà anche una piccola performance, Federico si porta due musicisti e su cui non so appunto, non so granché sulla performance però aspettiamo tutti coloro che sono interessati al personaggio e alla trasmissione a Villa Faravelli a partire dalle ore 21.